Buonasera a tutti e a tutte, bentornati sulle interviste di BioBlu, oggi abbiamo il piacere di ospitare il giornalista e saggista Franco Fracassi per cercare di fare il punto sulla situazione della guerra in Ucraina, buonasera Franco, grazie di essere con noi anche oggi. Buonasera, buonasera. Allora Franco tu stai pubblicando un libro che analizza le cause di questa guerra, quella delle tensioni fra Ucraina e Russia, è una materia che tu conosci molto bene, sei stato in Ucraina, a Odessa, diverse volte, l'hai raccontato spesso qui su BioBlu, però oggi vorrei cominciare questa intervista cercando di fare intanto il punto con te di quella che è la situazione sul campo, dal punto di vista militare forse non possiamo avere le informazioni dotate di sufficiente parzialità per capire come sta andando questa guerra, però forse possiamo cominciare a fare un po' il punto della politica internazionale, che cosa si sta muovendo intorno a questa guerra, vero Franco? Sì, nel senso che la guerra, anche se la guerra è formalmente tra Russia e Ucraina, in realtà è uno di quei rari eventi nel mondo che coinvolgono tantissimi soggetti di primissimo piano, diciamo due, in questa guerra è coinvolta la Russia ovviamente, è coinvolta l'Unione Europea per tutto quello che stiamo vivendo anche noi come italiani, sono coinvolte gli Stati Uniti che sono quasi i protagonisti di tutto quello che è accaduto fino adesso ed è coinvolta perfino la Cina che ha un ruolo che potrebbe anche giocare un ruolo decisivo, perché non bisogna dimenticarsi di due cose, primo l'Ucraina, anzi la Cina è il maggior partner commerciale dell'Ucraina dopo la Russia e l'Ucraina ha fatto enormi investimenti, anzi la Cina scusate, ha fatto enormi investimenti in Ucraina negli ultimi anni, specialmente dal punto di vista minerario, perché l'Ucraina, uno parla sempre di gas e cose del genere, l'Ucraina è ricchissima di miniere, miniere molto utili all'industria cinese e soprattutto all'industria che è legata alle terre rare, ovvero a tutti quei materiali che poi sono necessari per esempio per funzionare i computer, per funzionare i cellulari e così via. Quindi la Cina ha un interesse primario in Ucraina, in più la Cina ha trovato nella Russia il suo principale partner per lo sviluppo commerciale e anche strategico per il futuro, perché la Russia è un paese, oltre ad essere un paese militarmente molto forte e la Cina in qualche modo ha bisogno anche di questo, ma soprattutto la Russia è il più grande scrigno del pianeta di risorse minerarie e anche energetiche e la Cina ha bisogno di tutte quante queste cose e visto che la Russia trova oramai da tempo sempre di più un muro su cui sbatte che a Occidente, perché l'Unione Europea oramai da 20 anni a questa parte sta prendendo a calci sui denti la Russia in ogni occasione e quindi la Russia si sta sempre di più volgendo verso l'est anche se non avrebbe questa attitudine, perché invece l'attitudine della Russia sarebbe quella di rivolgersi a Ovest, perché è un paese europeo a tutti quanti gli effetti. Quindi ci sono quattro soggetti di primaria importanza geopolitica, forse i quattro soggetti più importanti che esistono al mondo dal punto di vista geopolitico e sono coinvolti in questa guerra. Tra l'altro Franco, mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull'Ucraina, nei giorni scorsi però abbiamo registrato anche delle tensioni per quanto riguarda Taiwan. Mike Pompeo, che è stato il precedente segretario di Stato dell'amministrazione Trump, si è recato proprio nei scorsi giorni a Taiwan e ci sono state delle dichiarazioni insolitamente dure da parte delle diplomazie cinesi, da parte anche del ministro degli esteri cinesi, che normalmente la Cina è abituata ad utilizzare dei toni molto più concilianti, quindi effettivamente si sente che la tensione arriva fino in Estremo Oriente in pratica? Sì, anche perché Taiwan, non dico Taiwan sia la Cina come l'Ucraina sia la Russia, perché l'Ucraina è molto più legata alla Russia di quanto Taiwan sia legata alla Cina, però dal punto di vista dei due paesi sono situazioni molto simili e quindi la Cina ha sempre mal sopportato l'ingerenza statunitense per quanto riguarda Taiwan. Potremmo secondo te trovarci all'inizio di un meccanismo, di un pericoloso meccanismo che col tempo potrebbe condurre a questa temuta terza guerra mondiale che sarebbe una guerra fra l'Occidente e il blocco russo-cinese-iraniano, diciamo così, sappiamo che questi ormai sono i due grossi blocchi politici nel mondo. Diciamo, io alla terza guerra mondiale non credo perché significherebbe l'estinzione dell'umanità e di tutti gli esseri venti che popolano il pianeta, forse gli scarafaggi sopravviverebbero, quindi non credo che si arriverà mai a tanto e non ci si è arrivati durante la guerra fredda dove c'erano ostilità ben maggiori rispetto ad adesso. Però si può tirare la corda, sì, questo sì, si può tirare la corda fino a quasi il punto di rottura, si possono portare avanti provocazioni di ogni genere, cosa che è accaduta molto negli ultimi anni e soprattutto gli Stati Uniti, il problema è uno, il problema, poi io quando parlo sembro sempre anti-americano mentre non lo sono, allora gli Stati Uniti hanno un problema serio, nel senso che gli Stati Uniti hanno perso la leadership economica mondiale e loro questo l'avevano analizzato fin dagli anni 90, in qualche modo l'11 settembre anche frutto di questa analisi da parte degli Stati Uniti, sono riusciti a prolungare la cosa, a prolungare l'agonia, però a un certo punto la Cina li ha sorpassati e quello che invece gli Stati Uniti mantengono sono altri due punti, altri due leadership che però sono fondamentali, che permettono agli Stati Uniti di fare tutto quello che vogliono sostanzialmente, che sono la leadership militare e quella culturale, che è forse la più importante di tutti, perché è quella che domina tutto quanto il resto, perché è quella che determina l'orientamento dell'opinione pubblica, soprattutto in Occidente. Allora, gli Stati Uniti hanno bisogno di recuperare la leadership economica, perché anche per questioni interne, al di là per questioni di orgoglio nazionale, insomma in tutti i modi, loro si sentono i più grandi al mondo, i migliori al mondo, i più figli al mondo, qualsiasi cosa devono essere i primi e va bene, ma soprattutto ne hanno bisogno anche per l'economia interna, perché l'aver perso la leadership economica li mette in enorme difficoltà dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista dell'esportazione e della bilancia dei pagamenti, oltre al fatto che il dollaro non ha più quel valore che aveva prima, perché prima era la moneta universale, mentre oggi c'è già l'Euro che in parte lo sta soppiantando, più potrebbero esserci anche altre monete, che potrebbero scalzarlo e questo metterebbe in difficoltà gli Stati Uniti per un altro motivo, ovvero gli Stati Uniti sono il paese più indebitato del pianeta e questo debito degli Stati Uniti non è stato mai richiesto indietro da nessuno per il semplice fatto che sono gli Stati Uniti, quindi fanno quello che gli pare e nessuno andrà mai a chiedere qualcosa dagli Stati Uniti, nel momento in cui gli USA perdono questa loro preminenza e il dollaro attraverso cui loro si finanziano e proteggono il loro debito, perché tutti quanti sono costetti a usare i dollari e quindi nessuno andrebbe ad affondare un'economia che è quella che crea il dollaro, perché altrimenti collerebbe tutto quanto e nel momento in cui il dollaro non smettesse di essere la moneta universale, gli Stati Uniti rischierebbero di trovarsi dei soggetti alla porta che gli chiedono il conto e quindi per loro sarebbe un problema enorme, un problema enorme soprattutto per quello che si vede in tantissimi film americani da decenni a questa parte, film di spionaggio, film di fantapolitica, cose del genere, c'è sempre qualcuno che fa una lezione a qualcun altro dicendo queste cose qui, queste zozzerie che si vedono nei film, le dobbiamo fare perché noi dobbiamo garantire lo stile di vita americano a tutti quanti gli americani, questo stile di vita americano rischia di crollare, questo è il punto, rischia di crollare tutto il castello di luci e paiette che hanno creato nell'ultimo secolo gli Stati Uniti d'America e non se lo possono permettere e quindi hanno bisogno di far valere le cose su cui loro sono più forti, cultura e arni ed è quello che stanno facendo. Il problema è che loro per portare avanti questo genere di politica hanno bisogno di scontri continui perché se no non va bene, hanno bisogno di un cattivo sempre e riescono a crearlo molto bene il loro cattivo di turno, hanno bisogno quando possibile di usare le armi perché devono far vedere che loro sono sempre i più forti e questo è il punto di destabilizzazione, non perché la Cina sia un paese filantropo e la Russia ha la stessa cosa, siano grandi democrazie, siano tutti buoni, no assolutamente, si fanno gli affari loro, però hanno un modo diverso di essere invasivi con il resto del mondo, un modo molto meno bullo e molto meno asfissiante, mentre invece il problema è fatto da questa zanzara perenne che cerca di creare caos dove può creare, però ovviamente si fermerà, secondo me non arriverà mai, mai, mai a scatenare una terza guerra mondiale. Franco, cercando di puntare adesso lo sguardo su quello che sta accadendo in Ucraina, non sappiamo esattamente a che punto è questa guerra, però possiamo supporre che l'avanzata dei russi prima o poi terminerà, d'altra parte ci sono praticamente soltanto loro sul campo, l'esercito ucraino non credo che potrà resistere a lungo e dall'altra parte stiamo assistendo a una strategia piuttosto inedita, nel senso che oltre a questa valanga di sanzioni economiche, la Russia è stata bandita da tutte le più importanti multinazionali del mondo, dalle istituzioni culturali, persino dalle università, quindi sembra che da entrambe le parti, Putin l'aveva detto esplicitamente, aveva chiesto all'esercito ucraino di destituire Zelensky e di presentarsi direttamente al tavolo delle trattative, dall'altra parte la strategia occidentale sembra essere per certi versi simmetrica, cioè quella di fare terra bruciata intorno a Putin e innescare un meccanismo per farlo sostituire al suo interno, insomma soltanto che questa strategia rischia di essere anche molto pericolosa. E' una strategia pericolosa perché si fa sulla pelle delle persone, molto semplicemente, perché il problema non è adesso la Russia, il problema adesso è l'Ucraina, nel senso che in Ucraina, piaccia o non piaccia, c'è una guerra, anche se è una guerra del tutto assurda, anomala, è una guerra molto meno cruenta di quanto sono le guerre normalmente, ovviamente ha tantissimi elementi che ne fanno un unicum questa guerra ucraina, però c'è sempre una guerra, ci sono delle truppe che sono in campo, allora quando c'è una guerra alla fine la guerra è come un cararmato, cioè quando il cararmato va avanti, non è che ci fa caso se c'è una macchina, se c'è una cosa, travolge qualsiasi cosa, la guerra è così, non esistono le guerre chirurgiche, non esistono le guerre a cui si tiene conto delle vittime civili, alla fine la guerra una volta che esplode nella sua devastazione è inarrestabile. Allora fino adesso sono riusciti a tenergli un freno a mano, ma armare gli ucraini, cercare di in tutti i modi di spingere l'Ucraina a resistere alla Russia vorrebbe dire veramente fare un bagno di sangue, cioè trasformare questa stranissima guerra quasi a bassa intensità, nonostante centinaia di migliaia di truppe in campo con tutti i cararmati, gli aerei e quant'altro, trasformarla in una guerra molto simile alla guerra civile siriana e la cosa sarebbe devastante, cioè questo ovviamente provocherebbe, non come adesso che ci sono sì per carità i profughi, ma sono alcune migliaia, non mezzo milione che raccontano, ma alcune migliaia, provocherebbe milioni di profughi, provocherebbe devastazioni enormi in un paese, provocherebbe migliaia, decine di migliaia di morti in Ucraina, provocherebbe uno sconquasso in tutta quanta l'Europa e forse anche oltre, quello che trovo assurdo è la politica occidentale, c'è una politica suicida in cui, tanto chi se ne frega sono le Ucraine che muoiono, come al solito, si fanno sempre le bravate con la pelle degli altri, perché noi siamo brevissimi a fare questo noi europei e noi occidente e quindi mandiamo al massacro queste persone, pur di averla vinta sulla Russia e su Putin, mentre invece dovrebbe funzionare in una maniera differente, noi dovremmo tenere come prima cosa la vita di quelle persone lì e quindi a dare una via d'uscita a Putin, perché senza via d'uscita la cosa non finirà mai, b trovare una soluzione il più rapidamente possibile, condivisa una soluzione che permette di ristabilire la pace, di far ritornare le armi e gli eserciti dove si trovavano prima? Soltanto che mi sembra che in questo momento gli spiragli di questa pace siano molto sottili, ieri c'è stato il secondo round di incontri fra le due delegazioni, però la Russia è lì sul campo con i carri armati, gli aerei e gli elicotteri, dall'altra mi sembra che non ci sia nessun segnale di apertura da parte delle leadership europee, c'è nessun segnale di voler effettivamente trattare sulle garanzie che la Russia ha chiesto anche prima di questa guerra. Voglio farti una domanda, Franco, noi sappiamo che questa tensione tra Russia e Ucraina, quindi tra Russia e mondo occidentale non è qualcosa di nuovo, però le classi dirigenti europee della precedente generazione, mettiamola così, erano riuscite tutto sommate a trovare un equilibrio tra il proprio interesse di avere delle relazioni tutto sommato amichevoli con la Russia e credo che il caso più emblematico sia stato quello della Merkel che oltre a quanto si dice avesse un rapporto personale tutto sommato amichevole con Putin, d'altra parte era una leader storica, insomma esattamente come era stato Putin e tra l'altro appunto questo rapporto aveva consentito di mettere in campo un progetto ambizioso come era stato quello del Nord Stream 2. Questa nuova generazione di leader europei è forse, adesso è incapace diciamo di perseguire l'interesse europeo che è anche un interesse di pace perché se lì c'è una guerra è chiaro che poi la minaccia si estende non solo all'Ucraina ma a tutto il continente. Sì, i nuovi leader europei sono del tutto inconsistenti, nel senso che non hanno, se uno pensa che Macron è uno dei leader dell'Europa e che è una specie di pupazzo in mano alla finanza di Wall Street, i leader europei sono inesistenti e lo stesso Draghi dal punto di vista politico è un personaggio inesistente perché Draghi è un leader della finanza, non un leader politico, non ha nessun tipo di approccio politico alle cose, lui comanda, Draghi non è uomo da trattativa, non è uomo da mediazione, non è il tipo, non lo è mai stato per tutta la vita, figurarsi se lo diventa adesso a più di 70 anni e in questo momento Draghi e Macron sono i due leader dell'Europa, non lo è sicuramente Scholz. Il problema non è solamente una questione di leadership, è anche una questione di che cosa vuole l'Europa, cioè il senso di quello che sta diventando l'Unione Europea, l'Europa è dal 2004 in poi sostanzialmente viaggia su due velocità differenti e in due direzioni differenti, c'è l'Europa di quella classica, quella che faceva parte, che diciamo che formava la comunità economica europea, quindi la parte occidentale dell'Europa, che è un'Europa che ha altri interessi, che non guarda solamente agli Stati Uniti ma guarda anche a Est, che è un'Europa molto meno ideologizzata, almeno lo è stata fino a pochissimo tempo fa, e poi c'è l'Europa dell'Est, quella che sta integrata dopo, che invece è un'Europa fortemente ideologizzata, totalmente antirussa, proprio totalmente antirussa, è totalmente filoamericana, nel senso che è come se fosse una propaggine del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, e questa cosa, questo scontro è avvenuto sempre, è avvenuto sui migranti, è avvenuto sulle questioni finanziarie, è avvenuto sulle questioni di politica estera di tutti i tipi, e ovviamente è avvenuto nei confronti della Russia. Oggi l'Europa, quella classica, quella che poi aveva il potere economico e quindi in qualche modo riusciva a volte a piegare l'Europa dell'Est, oggi questa Europa è totalmente priva di guida, di guida autonoma, di guida slegata dai diktati di Washington, e quindi si è allineata perfettamente all'Europa dell'Est, in questo senso improvvisamente l'Europa, si dice in questi giornali, finalmente Europa è unita, si sta dimostrando unita per la prima volta, e sì, si è unita perché si è piegata al non essere più Europa, si è piegata a essere la colonia di qualcun altro, e questa cosa ovviamente porta dei problemi serissimi, perché noi in un totale assenza di forza politica perdiamo anche totalmente la battaglia economica e finanziaria che abbiamo con tutti quanti gli altri, diciamo i nostri rivali nel pianeta, i nostri rivali nel pianeta sono la Cina e gli Stati Uniti d'America, che sono rivali, non sono né l'uno né l'altro, sono nostri amici, sono rivali con cui si potrebbe fare affari, questo è il senso, perché gli Stati Uniti così ci vedono, gli Stati Uniti vedono l'Europa come un rivale, non come fratelli, amici, come diciamo, siamo tutti fratelli con gli americani, no, per loro noi siamo dei rivali, e ci trattano come tali, se posso aggiungere per spiegare questa cosa qui, lo spiegò benissimo Snowden, quando ci raccontò di come gli Stati Uniti spiavano l'Europa, che cosa ci facevano con quelle informazioni? Tra le tante informazioni che rivelò Snowden che raccoglieva la National Security Agency sull'Europa, c'erano tutte quante le informazioni di tipo economico e finanziario, ovvero gli Stati Uniti d'America attraverso la sua più grande agenzia spionistica facevano spionaggio industriale contro le aziende europee a favore di quelle americane, perché erano concorrenti secondo loro, uno degli esempi che fece Snowden riguardava le commesse che in giro per il mondo andavano cercando l'Airbus, che è una compagnia franco-tedesca, e la Boeing, che è una compagnia statunitense, l'N6 spiava sia i progetti industriali degli aerei per suggerire soluzioni eventualmente alla Boeing, sia quando c'erano gli appalti, ovviamente spiavano la strategia di vittoria dell'appalto da parte dell'Airbus e vinceva sempre la Boeing perché aveva un insider che era poi la National Security Agency, ovvero l'agenzia di spionaggio di Stato, anche se favoriva un'azienda privata. Questi sono gli Stati Uniti, loro hanno una forte coscienza nazionale e mescolano pubblico e privato tutto insieme, cioè il pubblico lavora in funzione del privato e essendo l'Europa fatta di aziende concorrenti delle aziende americane, l'Europa è dal punto di vista del pubblico, quindi lo Stato è un'entità concorrente agli Stati Uniti, loro ci hanno sempre trattato in questo modo e noi in qualche modo abbiamo resistito, oggi non lo facciamo più, cioè oggi abbiamo calato le braghe e ci stiamo completamente sottomettendo dal punto di vista economico quello che era rimasto di indipendenza della nostra Europa. Franco, c'è stata questa dichiarazione di Trump che a un certo punto ha detto che se ci fossi stato io probabilmente questa guerra non sarebbe avvenuta, Putin non avrebbe invaso l'Ucraina perché io do un'idea di maggiore autorevolezza, di maggiore forza eccetera, comunque il messaggio era anche che forse lui avrebbe avuto un tipo di politica diversa verso la Russia, è un dato di fatto che durante la sua presidenza diciamo non ci sono state guerre, non ci sono state nuove guerre, insomma è stata una presidenza piuttosto distensiva da un punto di vista dei conflitti internazionali, ma secondo te ecco c'è realmente all'interno degli Stati Uniti diciamo un conflitto all'interno diciamo tra due linee di condotta diverse ed è vero secondo te che se ci fosse stato Trump alla presidenza questo conflitto non ci sarebbe stato? Naturalmente facciamo questa considerazione insomma con tutti i dubbi possibili, insomma la storia non si fa con i sé, però ecco che ne pensi? Allora, Trump più autorevole non lo so, ho qualche dubbio, però Trump non... Di più muscolare... E' il modo di parlare di Trump, è il modo di presentare se stesso, però Trump con un approccio diverso rispetto a Biden su questo non ci sono dubbi. Quando venne eletto Biden, quindi quando si insediò, era il 2021 mi pare, si insediò l'anno scorso, ci fu, non mi ricordo nel corso di quale intervista, subito dopo la nomina di Biden, io dissi, dice presto accadrà qualcosa in Ucraina ed ero certo di questa cosa qui. Il problema non è tanto Trump o Biden che hanno avuto approcci diversissimi nei confronti della politica estera, Trump è molto più, per semplificare, isolazionista, cioè ha molta meno voglia di rompere le scatole al resto del mondo e di coinvolgere gli Stati Uniti in cose esterne, seppur lo ha fatto in Yemen, attraverso la rabbia esaudita, in Israele, nei rapporti con la Palestina e contro Iran, quindi non è che non ha fatto nulla, insomma, delle cose l'ha fatte. Ma il punto è che Biden è personalmente legato alla questione ucraina, cioè il punto sta lì, cioè Biden è l'uomo che ha garantito dal punto di vista politico il colpo di Stato che c'è stato in Ucraina nel 2014. E so, lui, lui in persona, lui che faceva avanti e indietro tra Washington e Kiev, che ha fatto avanti e indietro tra Washington e Odessa quando si è svolta il giorno prima della strage di Odessa del 2 maggio 2014, cioè lui l'uomo che ha permesso all'attuale governo ucraino, anzi a quello precedente che poi ha generato anche quello attuale, in qualche modo, di essere lì. L'Ucraina di oggi è figlia in qualche modo dell'azione politica di Biden. Quindi lui ha avuto un ritorno anche personale in questo perché il figlio Hunter Biden è entrato senza nessun motivo, cioè proprio non ce n'era motivo, è entrato nel Consiglio di Amministrazione di una delle più importanti società di gas del mondo che si chiama Burisma. Quindi diciamo che lui ha tutti gli interessi personali per far accadere qualcosa in Ucraina, in questo senso qui Trump avrebbe agito sicuramente in maniera differente, sia perché è una persona diversa, sia perché aveva rapporti, seppur a volte burrascosi molto diversi con la Russia, cioè non la vedeva a prescindere come il male, e sia perché appunto Trump ha tenuto un profilo diverso dal punto di vista della Presidenza e della politica estera. L'ultima domanda che vorrei farti, non abbiamo la sfera di cristallo naturalmente, però secondo te che cosa ci si può aspettare, se non dal lungo periodo, perlomeno dai prossimi giorni di questa guerra? Allora, appunto, io non ho la sfera di cristallo quindi non lo so, ma in più non lo so anche perché per una cosa molto semplice, che io non ho ancora capito qual è l'obiettivo di Putin. Mi spiego in altro modo, è evidente l'obiettivo di Putin è raggiungere, non so, ha fatto una serie di richieste, insomma, ottenere quelle richieste lì, ma non è solamente questo. Quando uno, quando tu fai una mossa, immaginate una partita di scacchi, tu fai una mossa, no? Negli scacchi, chi è bravo, fa una mossa pensando alle 6, 7, 8 mosse successive, quello che accadrà, no? Quindi l'obiettivo non è la, non devi vedere la mossa che lui fa in quel momento, il tuo avversario, devi vedere cosa in mente, cioè qual è l'ottava mossa che vorrà fare di questa sequenza di mosse. Quindi qual è il suo obiettivo reale? Perché tu punti a qualcosa, come se ci fosse una trattativa, dice io voglio 100 cose e quell'altro dice no, io tenerò 10 e incomincia una trattativa e tu sai che ne hai proposto 100 perché vuoi ottenere 25. Allora, quel 25 di Putin non è chiaro, cioè non è chiaro esattamente cosa lui pensa da persona molto realistica, molto attaccata con i piedi per terra, come è Putin, che questo è uno dei suoi, ha tantissimi difetti, ma un suo pregio di solito è questo, lo è stato fino adesso, cioè qual è realisticamente l'obiettivo che lui pensa di poter raggiungere? E se non si sa questo non si capisce nemmeno come andrà a finire, perché non si capisce nemmeno dove, a che punto l'Ucraina, anzi scusate, a che punto la Russia si fermerà, quando diciamo andando avanti anche dal punto di vista militare, in più quello che ancora non mi è chiaro è quanto l'Europa e gli Stati Uniti sono disposti a trasformare in campo di guerra totale l'Ucraina, nel senso fino a dove sono disposti a spingersi, fino a trasformare veramente l'Ucraina in una nuova Siria, oppure no? Perché appunto se non si sa... Ma quando per esempio non in qualche modo consentiranno a una trattativa su degli eventi concreti? Esattamente, esattamente, se non si capiscono i limiti dei due principali contendenti, che non è l'Ucraina, l'Ucraina è un soggetto, in questo momento che sta in mezzo, se non si capiscono i limiti di questi due principali contendenti, non si può stabilire che cosa, cioè non si può nemmeno immaginare che cosa accadrà, perché senza limiti potrebbe accadere qualsiasi cosa, mentre se esistono, come esisteranno sicuramente, dei limiti, a un certo punto potrà accadere fino a un certo punto, quindi cambierebbero completamente gli scenari. Va bene, Franco, naturalmente auspichiamo che le armi tacciano e che questa guerra si fermi il prima possibile, non possiamo che sperare questo. Ti ringrazio per averci così aiutato, insomma, a dare un punto di vista in più su quello che sta accadendo. Ricordo il tuo libro che può essere acquistato sempre scrivendoti, immagino, Ucraina dal Donbass a Magdalena. All'indizzo francofragassi1chiocciolagmail.com, se posso dire una cosa che riguarda il mio libro, che credo sia interessante, se posso aggiungere una cosa, allora io una parte del libro lo dedico, perché secondo me è decisiva l'informazione, perché è l'informazione alla fine quella che permette di fare certe cose oppure non le permette di fare, ed è questa sorta di totale unanimità dell'informazione del mondo occidentale che è impressionante. E ho scoperto una cosa che, appunto avendo la scoperta non la sapevo prima, che mi ha molto impressionato, ovvero gli Stati Uniti a un certo punto hanno incaricato un personaggio che è un ex berretto verde, quindi un uomo di guerra, un uomo d'azione, gli hanno dato in mano le chiavi dell'informazione ucraina, cioè l'hanno nominato responsabile della guerra psicologica della CIA, quindi è un dipartimento che la CIA ha dalla fine della seconda guerra mondiale e che è stata utilizzata in Corea, in Vietnam, in Honduras, è stata utilizzata in tantissimi posti e lui ha creato, ha messo su D'Amblè tutto il sistema di propaganda interna e internazionale del governo ucraino dopo il golpe. Questo personaggio, che si chiama Joel Harding, ha scritto in un documento interno della sua organizzazione la seguente cosa che per me è agghiacciante, perché così si capisce anche il punto di vista attraverso cui gli Stati Uniti hanno visto l'Ucraina e vedono questa situazione qui. Allora, vi leggo il virgolettato. Le fotografie possono essere, lui parla da persona che gestisce, che si rivolge agli ucraini che devono mettere in atto questa propaganda, forse nata di questi ultimi otto anni, cioè devono risettare il cervello delle persone, sia ucraine che del resto del mondo, riguardo tutta quanta la vicenda ucraina e russa. Le fotografie possono essere ritoccate come i video, i testimoni colari devono essere trattati come agenti stranieri sospetti. I reportage non sono affidabili. Anche se è la persona più affidabile al mondo a dire qualcosa, si può sempre bollarla come speculazione, faziosità o come un agente pagato dai russi. Che cosa faremo? Sradicare, rifiutare, corrompere, ingannare, usurpare o distruggere le informazioni. Le informazioni, non va dimenticato, sono l'obiettivo finale della cyberguerra. Tutto questo per avere un impatto diretto sul processo decisionale dei leader avversari e quando parlo di avversari mi riferisco ai leader europei. Bisogna sviluppare una strategia di contenimento informatico dei media russi e dirigere barriere per controllare l'informazione ucraina. Ecco, questa cosa che secondo me è impressionante è l'occhio, lo sguardo e il punto di vista che hanno gli Stati Uniti o il gruppo di potere di Biden, che è quello che ha messo quest'uomo in quella posizione, questo berretto verde, nei confronti della situazione ucraina e della Russia. Va bene, grazie, grazie ancora di essere stato con noi. Franco, saluto i nostri spettatori e vi do appuntamento per la prossima intervista su BioBlu24. Grazie.